Oggi 4 maggio è un'Italia in ginocchio, è un'Italia che prova a ripartire dopo una crisi enorme pagata a caro prezzo in termini di vite umane e di un'economia devastata, è un'Italia lacerata, divisa, è un'Italia che ha bisogno di una visione comune, di bellezza, di passione, è un'Italia che ha bisogno non di essere forte ma di sentirsi forte, è un'Italia che scopre la potenza di un mantra, di una preghiera. Oggi 4 maggio è un'Italia che si scopre a pregare e prega così Bacigalupo Ballarin Maroso Grezzar Rigamonti Castigliano Menti Voic Gabetto Mazzola Ossola Nel giorno di pioggia tu forse ricordi qual'è? Quel giorno di pioggia tu forse ricorderai che? Quel giorno di pioggia la stanza era densa, la tua espressione era di circostanza. Le mani mai ferme portate alla bocca, quegli occhi tuoi gonfi guardavano me. Io risi, poi piansi, fai un po' come vuoi, la pioggia batteva sul viso tra noi, batteva sul nostro dolore più vivo che mai. Grazie a tutti.